Eh, sabato 21 mi sembra, gennaio, primo lavoro dell'anno, bello, tranquillo, mezz'oretta con Izzolo non si butta mai via, ho fatto ora il giombello più corto. È una zona che è nato per il progetto, è un po' un piano che è nato, certo? Grazie a tutti. Grazie a tutti.